Grazie a tutti. Sono qui insieme perché insieme parleranno di quello che è il loro lavoro editoriale e la pubblicazione di diversi libri che li vede ormai procedere spediti anche perché il 22 di settembre avranno la possibilità di presentare alle 15.30 presso la sala consigliere di Nasca proprio le loro ultime produzioni. Allora inizio da lei dottor Comini che cosa ci racconta di nuovo? Ma io racconto di nuovo che questi due libri uno è dedicato a mia moglie, un amore di fede cristiana perché io nell'amore non vedo solo sesso ma vedo un atto spirituale Rivolto verso Dio che è l'immagine dell'amore coniugale Poi presento un libro su mia madre che è molto intenso e niente oggi ho avuto risposte dal re Carlo di Inghilterra e ieri dal vescovo di Vicenza. Possiamo dire dottor Comini che si tratta di due forme d'amore complementare, quindi quello nei confronti della famiglia di origine, la madre e quello nei confronti della famiglia attuale che è la prosecuzione, sua moglie. Quindi la parola poetica che diventa testimonianza di una forma di comunione spirituale. Certo, certo. E in queste risposte del re Carlo e del vescovo di Vicenza che cosa è successo? Ma è successo che il re Carlo è la terza volta che mi risponde e mi hanno risposto tutti i reali d'Europa. Ormai lei è conosciutissimo al di fuori del lago. Un tempo lei era il poeta del lago ma adesso è il poeta del lago e di più perché la sua poesia ha varcato i confini. Sì, diciamo che in settimana, settimana scorsa, mi sono arrivate risposte dal Consolato di Milano, del Giappone e del Consolato del Brasile di Milano. Che a ottobre, non so ancora la data, perché me lo dovranno comunicare a settembre, avrò un incontro insieme al Consolato del Consolato di Milano. Questi sono riconoscimenti importanti per il suo lavoro di autore ma anche della sua passione appunto per la poesia. Invece, dottoressa Lagutti, lei che cosa presenterà in occasione della vostra prossima manifestazione insieme? La magica Venezia è un tenero abbraccio di madre che è dedicato a mia madre. Quindi anche lei sceglie di parlare di relazioni e di amore ripercorrendo il legame con sua madre. Sì. Mentre Venezia come mai? Venezia perché è una città da sogno come ho scritto nell'ultima mia raccolta. È una città da sogno, lo possiamo davvero confermare per la sua bellezza, per la magia, per la straordinarietà. Quando lei è a Venezia o pensa a Venezia, dal punto di vista poetico che cosa le viene in mente? Ma di rendere vivi i monumenti che sono presenti. Che è una bellissima impresa letteraria, mentre un tenero abbraccio di madre è un po' il ripercorrere il suo rapporto con sua madre? Con mia madre, sì. Questo vostro connubio straordinario si nutre di poesia, di vicinanza, di affetti. Che cosa state facendo in questo momento? Allora, questi sono i libri usciti recentemente, ma immagino ci siano già altre operazioni in corso, altri lavori che stanno andando avanti. Ma io al prossimo anno pubblicherò un libro sul lago e un libro su Rosmini. Ah ecco, Rosmini è una presenza di cui avevamo già parlato, dottor Comini, per lei molto importante. In questo caso il libro su Rosmini sarà che cosa? Un viaggio ancora una volta spirituale? Un viaggio spirituale, sì. Un viaggio spirituale ripercorrendo un po' il percorso che ha fatto lui negli anni. Lei lo conosce molto bene come figura, come pensatore, come filosofo. E quindi ha saputo dare voce proprio a una riflessione molto intima. Questo lavoro verrà poi presentato a Stresa con i Rosminiani, sa già dirci qualche cosa? O a Stresa o a Belgirate. A Belgirate che mi hanno dato spazio ultimamente. Niente, ho avuto un successo diciamo buono perché c'era abbastanza gente e perciò è un discorso che mi sta molto a cuore. Visto che sta appunto ricordando questo momento, sottolineiamo che la presentazione del 22 di settembre non sarà solamente l'occasione per incontrare lei e sua moglie, ma ci sarà una lettura complessa di tutti quelli che sono i vostri lavori perché ci sarà un'attrice che declamerà alcune delle poesie, una pittrice e poi ci saranno alcuni studiosi che vi accompagneranno. In che modo, dottor Comini, l'immagine, la pittura entra in relazione con le vostre opere poetiche? Ma la pittura come la fotografia rappresenta l'immagine, per dirla in parole povere, è un'immagine poetica di certi componimenti di Venezia, dei fiori, perché lì il libro di mia moglie è tutto un fiore, e è un'immagine molto suggestiva. Un'immagine molto suggestiva che possiamo immaginare già dalle sue parole. Per lei invece, dottoressa Ragutti, la poesia e la pittura come possono dialogare? Ma dialogano portando il simbolo di quello che si vuole dire con immagini che arrivano direttamente al cuore. Come le vostre parole d'altronde, la poesia arriva al cuore, le immagini arrivano al cuore. Ancora una domanda per entrambi, parto dal dottor Comini, ma poi arrivo anche a lei. Dottor Comini, quando preparate eventi come questi, come fa a scegliere tra la grande quantità di poesie che ormai ha scritto, quali condividere con il pubblico? Da che cosa si fa guidare? Ma più che guidare, io personalmente è l'attrice che sceglie quale poesie leggere. E, vabbè, noi le diciamo quale preferiamo, ma è lei che sceglie quale leggere. Lo stesso vale per lei, dottoressa Ragutti? Si affida alla scelta dell'attrice? Dell'attrice, sì, sì. E che emozione è sentire e declamare le proprie poesie? Un'emozione grande. Immagino, anche per lei, dottor Comini? Sì, sì. Bene, allora invitiamo tutti di nuovo presso la sala consigliere di Nasca il 22 di settembre alle 15.30 per la presentazione, come abbiamo visto, accompagnata da momenti di pittura e di declamazione poetica per la presentazione dei volumi della dottoressa Ragutti e del dottor Comini che io ringrazio per essere stati qui ancora una volta. No, diciamo anche che il 14 di settembre abbiamo un appuntamento a Mestre che presentiamo un libro Io su Venezia e un libro Mia moglie su Venezia. Sarà difficile per noi esserci perché Mestre non è proprio dietro l'angolo. Però ci saremo col pensiero e magari la prossima volta ci racconterete com'è andata. Intanto ricordiamo anche questo bellissimo appuntamento, parlare di Venezia a Mestre sarà un'altra emozione molto molto forte. Quindi prima a Mestre il 14 di settembre se qualcuno dovesse passare di lì o altrimenti il 22 di settembre appunto a Nasca. Grazie di cuore, ci vediamo alla prossima nostra chiacchierata poetica. Bene, arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti.